Abbiamo con noi Paul Hennings, Presidente dell'IP User Group. Paul, quale mercato e quale scena di business è ora risulta per l'IP security e il digital CCTV? Penso che ci sono tre parti di importanza, e li chiamano i tre C's. La prima è la convergenza, cioè le tecnologie che si vengono insieme e lo vediamo all'interno di noi, e sono sicuro che ci vedremo molto più integrazione nel futuro. La seconda è la consolidazione, che ci sono le requisite business che si vengono all'inizio, quindi la necessità di sicurezza e access control, eccetera, ma in un'inizio di business, quindi le persone che hanno bisogno di mettere tutto a una sola backbone. La seconda è la continuità, e questo si vengono all'inizio all'inizio, è la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, e anche le problemi all'inizio di sicurezza di lavoro e di business, e minimizzare rischi all'inizio 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 all'inizio. E in effetti, c'è un quarto C, e questo è il challenge, e penso che il challenge per l'industria di sicurezza è è di ammettere il mondo digitale, ammettere l'IP, ammettere che hanno bisogno di attraverso l'industria di IT in un grande gradino, e non essere freddati, ma 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 non essere freddati e sviluppare i loro business. E finalmente, volevo invito i ragazzi, a noi in ottobre in Londra, suoi invito a cui vi faccio molto di tutto, e grazie per invitencicicicicicicicicici Vi vedrai in l'IPSEC, e un l'hova vita per l'IP! Grazie a Paul!